La senatrice Borgonzoni Io credo che la chiave di lettura di quello che sta accadendo ora è tutt'altra chiave è una chiave che deve partire dal fatto che ovvio che l'Italia non deve essere lasciata sola come abbiamo visto finora, perché ricordiamoci quando li prendevamo noi per il trattato di Dublino dovevamo tenerli noi, quando li prendevano barche, navi, battenti e altre bandiere abbiamo fatto un altro accordo per cui li dovevamo prendere sempre noi ora perché andiamo a aiutare vicino alle acque, nelle acque libiche, vicino alla costa dobbiamo prenderli noi perché li abbiamo aiutati prima noi l'Europa invece che ringraziarci, che andiamo a fare quello che l'Europa non fa e che ha demandato a noi, li dobbiamo prendere noi abbiamo fatto diventare l'Italia un campo profu enorme per Cherenzi, per la flessibilità ha detto li teniamo tutti qua per cui c'è questa parte ma dall'altra c'è anche la parte che se siamo così tanto buoni come sento raccontare gli studi o come dicono tanti essendo così tanto buoni noi dovremmo pensare che questa gente su una barca non dovrebbe mai salire dobbiamo iniziare a mettere in campo delle politiche che le persone che realmente hanno bisogno e devono essere aiutate quelle perché è inutile far venire qua tutti nel nome di siamo tanti buoni e poi farli finire nelle nostre strade a chiedere l'elemosina o ai mafiosi di turno di una o di un'altra città a spacciare, questo non è essere buoni, noi dobbiamo darci un limite, c'è un tetto in Italia non si sta bene ora no, non ci sono i soldi per tutti, no non possiamo aiutare chiunque anche chi è un migrante che di fatto non fugge da persecuzioni e guerra no, non possiamo perché non possiamo permettercelo e quelli che facciamo venire qua li dobbiamo trattare dignitosamente quella attraversata non la devono fare per riuscire a raggiungere questo scopo che è per noi e per loro l'unico modo è scuotere un'Europa che in questo caso verrà scossa e la discussione verrà finalmente portata a un tavolo se lei vivesse, se tutta la sua famiglia vivesse con una capra e quella capra morisse per la carestia direi che bisogna aiutarli là perché devono avere tutto il diritto di poter rimanere loro, se non nemmeno da qui, non finire in Africa nei posti da cui la migrazione proviene altrimenti stia zitto perché se no non si capisce la gravità umana o disumana del problema questo è il punto, andate, vedete come stanno e poi capite perché mettono le loro bambine su una nave ma lei lo sa che gli immigrati che attraversano il Sudan gli danno una bottiglietta no, mi faccia parli buoni e io parlamente la non dire venite qua io le sto dicendo che se lei vedesse che tipo di viaggio guardi qua non ci saranno le buoni e le cattive qua ci sono persone ragionevoli e persone che non hanno ragione se lei diventia un attimo l'esperienza di una il premier maltese sostiene che l'Italia ha infranto le regole internazionali sicuramente il premier maltese ci sta anche che sia così tanto agitante definiamolo così per il fatto che se verranno riviste comunque tutta la gestione legata all'immigrazione visto che finora andavamo a prenderli più o meno nelle coste libiche e li portavamo da noi anche se prima c'era il suo porto magari ha paura che possa cambiare qualcosa e i suoi interessi nazionali che giustamente in quanto eletto dal popolo di Malta magari tiene e cerca di tutelare in tutti i modi io vorrei dire però anche che mi fa specie come il partito democratico sia così sensibile alla forma quando si parla degli altri e lo sia stato poco verso tutti i suoi ministri o quando c'era Renzi io ritengo che Salvini stia facendo insieme a altri ministri un grande forse cambio è un modo di politica diverso da quello che uno immagina o che c'è stato finora quello del fatto che un ministro degli interni possa essere in mezzo alla gente che sicuramente e penso sia fondamentale stare in mezzo alla gente tutto c'entra la gente, mica un mercato quello che a voi non va bene, non va bene quando fa la conferenza nella sede della Lega non vi va bene quando fa il collegamento da Facebook perché ho sentito anche queste critiche per cui sono se lo facessero un mercato non ci sarebbe nessun problema alla forma quando dipende dagli altri non avete mai criticato invece quando il vostro interno la forma della Lega ma Renzi ora quando era a capo del partito democratico ha fatto, ha mixato tutto dai suoi collegamenti che faceva qualunque intervento e mi sembra normale ma non ci vedo niente di strano no, piano mi spieghi, io vorrei capire cosa c'è di strano se ora abbiamo un ministro che ha portato a caso il risultato il risultato è riconosciuto almeno questo anche da te perché l'hai riconosciuto non scusate